Si chiama Wonder Child Friendly Destination, il progetto europeo di cui Fano è il comune capofila. Il progetto nasce con l'obiettivo di creare una città a misura di bambino che vede coinvolti vari stati europei che con il tempo si stanno adattando a determinati standard per quanto riguarda la pianificazione urbana, degli spazi e dei servizi. Inoltre il progetto Wonder ha anche come obiettivo la trasformazione della regione adriatico-ionica in un'area sempre più adatta ai più piccoli. L'obiettivo principale della città dei bambini è rendere la città accogliente e vivibile in primis per i bambini di Fano ma se la città è vivibile e accogliente lo è anche per i bambini che vengono ospiti della città e quindi questo stiamo cercando di trasmettere come buona pratica anche ad altre città di questa regione, ma allargata. Attualmente quante sono le città coinvolte nel progetto Nelle Marche? Nel progetto Wonder, che è questo progetto della macro regione adriatico-ionica, sono sette paesi oltre alla Croazia, alla Slovenia, Montenegro, la Grecia, l'Albania mentre invece noi siamo anche capofila di un'altra rete perché poi adesso questo discorso delle reti è molto importante per diffondere il più possibile questo tipo di pratiche un'altra rete che è quella regionale, la rete regionale della regione Marche e nella regione Marche già sono 22 o 23 le città che stanno avviando progetti come il nostro Tra le attività proposte del progetto ci sono le identificazioni di buone pratiche e il conseguente sviluppo di linee guida che permettono alla città di diventare maggiormente a misura di bambino Il progetto Fanno Città dei Bambini che diventa un esempio, un riferimento, una guida e questo ci fa molto piacere, ci rende orgogliosi ma è anche un riconoscimento del lavoro fatto anche in questi anni Abbiamo ottenuto dei finanziamenti importanti e questi li tradurremo anche in un progetto in chiave turistica di valorizzazione della città dei bambini con tutta una serie di declinazioni che guardano ad un'offerta che la renderà sempre più unica anche in un contesto nazionale e internazionale All'interno del progetto è stato attivato anche un network per dare la possibilità di rendere la città sempre più accogliente Si tratta di mettere in relazione più città che fanno parte dell'area della macro regione adriatico-ionica per condividere le politiche a sostegno dei più piccoli Si tratta di realizzare una rete fra città che hanno come fine comune quello di rendersi sempre più amiche dei bambini